Una domanda extra sui progetti di riqualificazione di Verona, oltre all'arena, cosa avete in base? Noi abbiamo tanti cantieri già aperti, pubblici e privati o pubblico privati, perché abbiamo a Verona Sud quella che storicamente era la zona industriale che si sta riconvertendo in la parte commerciale e direzionale, quindi sull'asta che va da Verona Sud e il centro della città ci sono già una serie di interventi in corso per qualche centinaia di milioni di euro di investimenti, quindi si stava completamente ridisegnando quella parte della città. E come è avvenuto il contatto con Unicredit, con il gruppo Unicredit? Il contatto c'è storicamente, Unicredit nasce anche dalla Cassa di risparmio di Verona, è stato uno dei pilastri. Unicredit ha uffici importanti a Verona, uno dei grandi azionisti di Unicredit è la fondazione Cari Verona, quindi è un contatto naturale.